Ragazze, vi ricordate che durante il viaggio vi ho detto di avere qualche problema con Victor? Beh, a volte per sistemare le cose è meglio lasciare che le storie muoiano. Ho fatto un passo indietro, per il bene di tutti e due. So che il viaggio non mi ha servito per conoscere Amsterdam, ma che almeno mi sia servito per sapere cosa voglio veramente. Spero che anche voi stiate mettendo in pratica questa cosa. Lola, se ti piacerai, non devi inventare scuse per non stare con lui. Ciao. Bella casa. Carmen, che lo stress del tuo lavoro non ti impedisca di goderti la preparazione del tuo matrimonio. E Mireia, sai che non serve stare con qualcuno per essere felice. Però, io sono convinta che da qualche parte c'è la ragazza che stai cercando. Anche se lei ancora non lo sa. A prescindere da tutto, è stato un bellissimo viaggio da single. Vi adoro ragazze. Grazie. 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 Grazie.